Buonasera a tutti e a tutti. Siamo qui oggi alla seconda lezione con il professore Luca Silingardi sull'arte e sul barocco. Prima della sua lezione volevo fare una piccola introduzione, così un ricordo, per il corso sull'energia che partirà il 23 di ottobre e poi avremo in novembre un corso di storia contemporanea sull'Africa. Quindi si parlerà di Algeria, di Egitto, di Tunisia, di Marocco. Vi sarà stato sicuramente anticipato nelle newsletter, ve le ricorderemo anche prossimamente. In più volevo ricordare che partirà a breve anche il corso di inglese con tre livelli, elementare, l'intermedio e l'intermedio avanzato, due in presenza e uno online. E a novembre partirà anche il corso di spagnolo. Comunque sono tutte notizie che troverete anche sulle newsletter che sono già arrivate e ancora vi arriveranno. Vi ringraziamo per l'attenzione. Passo la parola a Luca Silingardi. Grazie. Bene, grazie a tutti. Stavolta avete visto che sono stato più puntuale. Grazie per l'applauso. Esatto, un miracolo praticamente. Allora, oggi continuiamo il nostro discorso. Vedete che il paragraffetto di oggi ha il titolo L'affermazione del classicismo con Guidoreni e Domenichino, l'innovazione della decorazione barocca con Guercino, Lanfranco e Rubens a Roma. A dire il vero però, prima di andare avanti con questi nuovi argomenti, visto che l'altra volta l'abbiamo tirati via un po' in fretta e alcuni di voi erano andati a casa perché era già tardi, riprenderei anche il discorso sul caravaggismo e sul carracismo. Quindi su quelli che sono i frutti, diciamo così, raccolti da diversi autori delle straordinarie innovazioni proposte appunto da Annibale Carracci ma in particolare da, c'è un po' di riverbero, da Caravaggio. Avevamo accennato alla figura di Orazio Gentileschi, il papà di Artemisia Gentileschi. Ecco, di lui possiamo vedere per esempio in questo dipinto del 1606-1607, lui che veniva da una formazione tardomanierista e quindi legato ancora, diciamo così, a quella che è la situazione appunto precedente alle novità caravaggesche. in questi primi anni del Seicento mostra di guardare alle novità di Caravaggio senza però, diciamo così, coglierne nella sua complessità e nella sua totalità le straordinarie idee innovative. Vedete che in questo dipinto di Caravaggesco fondamentalmente c'è in particolare la luce e quindi i tagli, i tagli che sono molto suggestivi. Osservate per esempio quel personaggio dietro alla tenda, è illuminato da un fascio di luce che si trova nell'ultimissimo piano mentre sul davanti appunto risulta in ombra e poi un altro fascio di luce invece illumina i due protagonisti che sono in primo piano. Tuttavia questo dipinto mostra anche una predilezione appunto per le posture diciamo così ricercate e per questa attenzione anche al dettaglio della resa preziosa dei tessuti, degli abbigliamenti e dell'abbigliamento che sembra ancora essere legato appunto alla tradizione precedente. Perché come abbiamo detto in altri casi, le novità quando sono troppo esasperate, quando sono troppo grandi non vengono recepite nella loro totalità di solito dagli autori ma ne viene recepita una parte. Sono comunque utili questi autori perché sono quelli che recependono una parte assieme ad altri che ne recepiscono magari altre parti, fanno sì che queste novità riescono poi a penetrare compiutamente appunto nel tessuto dell'arte. Ecco, questa è la sua Giuditta con la testa di Oloferne, quindi anche qui vedete che appunto si percepisce ancora questo taglio caravaggesco, anche se la luce è molto meno attutita, il dibattito chiaroscurale è molto e molto più attutito e c'è questa idea di comporre, vedete, anche se con una forma geometrica, questi sono anni, 1621, in cui anche a Roma ormai il caravaggismo stava per essere superato dall'incipiente classicismo di Guidoreni di cui parleremo appunto tra poco. Ecco ancora anche quest'altro, sempre di Oratio Gentileschi, che vedete appunto guarda sicuramente appunto ai tagli di luce di Caravaggio, ma ne rimane in qualche modo non del tutto preso. Ecco, così come questo Giuseppe, la moglie di Putifarre, vedete com'è sontuoso in questo interno, con questa tenda rossa così particolare. Guardate anche i giochi di colori con questi tre primari, il blu della veste di Putifarre e dell'abito appunto giallo che tiene tra le mani, e il rosso invece appunto della tenda e dell'abito di Giuseppe che si sta allontanando da questa scena. Ecco, questo è del 1628, anche questo è un riposo della fuga in Egitto molto grazioso, qui sembra essere già più vicino alla lezione caravaggesca. Vedete che rinuncia, vuoi per il tema, a quello che è un'ambientazione di tipo più elegante, raffinato, di tipo cortese, e sceglie invece per questo riposo della fuga in Egitto una rappresentazione che anche nell'interpretazione si fa caravaggesca. Vi ricordate quell'idea di rappresentare le sette opere della misericordia in un vicolo come se fosse appunto un vicolo di Napoli? Anche qui vedete il tema sacro della fuga in Egitto, che tradizionalmente è rappresentato in un paesaggio bellissimo, dove non mancava mai una palma per fare capire che si andava verso l'Egitto. Qui invece diventa un vicolo scrostato con un'atmosfera anche un po' claustrofobica, perché la scena non si apre verso alcun paesaggio, ma è appunto chiusa da questo muro scrostato davanti a noi, e i personaggi sembrano davvero dei barboni. Guardate Giuseppe appoggiato su quel sacco, sembrerebbe proprio una scena da vicolo, quando si vedono dei senza tetto che purtroppo poveretti insomma sono costretti a sdraiarsi per terra e a vivere di stenti, anche gli abiti, vedete sono abiti che non sono consunti, però non sono neanche elegantissimi. Anche questo bambino che sta succhiando il latte viene rappresentato appunto con un effetto di grande verismo. Ci sono però degli elementi discordanti, come ad esempio vedete quel taglio di luce che vediamo in alto, nell'angolo, nell'angolo di sinistra. In realtà, per esempio, Caravaggio sicuramente l'avrebbe fatto piombare sul volto di Giuseppe, invece vedete che così abbiamo sia il taglio di luce là sul muro, poi una zona d'ombra, poi un altro taglio di luce. Quindi è come se non avesse, cioè se fosse rimasto affascinato dall'idea di quel taglio di luce che abbiamo visto nella cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, quella chiamata di la vocazione di Matteo, ma non avesse capito bene, diciamo così, il meccanismo effettivo di questi elementi. Allora, questo che vi ho fatto prima vedere è la versione del Kunsthistorisches Museum di Vienna e quest'altra invece è quella del Louvre, dove vedete, ecco, insomma, è meno claustrofobica perché apre con quel muretto sbrecciato, però apre un po' sul paesaggio, quindi l'ambientazione, insomma, diventa leggermente più campestre. Sembra che invece che essere in un vicolo urbano, in mezzo all'immondizia, si siano semplicemente fermati vicino a un casolare di campagna. Allora, abbiamo detto come la presenza di Caravaggio a Napoli, e avevamo parlato appunto di questa bellissima opera, delle Sette Opere della Misericordia, al Piemonte della Misericordia di Napoli, sia stata una presenza straordinaria. Cioè, mentre, per esempio, a Roma, appunto, le sue novità alla fine vengono soppiantate, qualche decennio dopo, da un classicismo rigoroso alla Guidoreni, alla Sacchi, eccetera, a Napoli, invece, la lezione di Caravaggio perdurerà fino al 600 avanzato. Mattia Preti, detto il calabrese, che lavora anche a Modena, nel Catino Obsidale, nella cupola di San Biagio nel Carmine, e nella Cappella delle Reliquie del Duomo di Modena, che è stata purtroppo però completamente distrutta, quando sono stati fatti i restauri di fino al 800, per riportarlo al romanico originale, mostrano, appunto, di essere ancora molto sensibili alle novità caravaggesche. E, in particolare, tra gli allievi, è da ricordare Battistello, scusate, qua c'è un refuso del nome, Battistello Caracciolo, si chiama, non Battistero, Battistello Caracciolo, che, come vediamo in questo dipinto, cosa recepisce, in particolare, cosa che fanno molto i napoletani, l'eccesso del dibattito chiaroscurale, portandolo ad una, diciamo così, drammaticità e ad una esasperazione tale per cui, mentre Caravaggio faceva zone in luce e zone in ombra, ma anche le zone in ombra erano leggibili, la scuola napoletana, invece, arriverà a fare dei tagli così forti, così netti, che le parti in ombra non si vedono proprio, diventano parti perdute, e quelle in luce diventano come bruciate dall'eccesso della luce. Sapete quando si fa una fotografia che si sbaglia l'esposizione e viene appunto bruciata dalla luce? Ecco, una cosa di questo tipo. Il tema, lo dico per chi magari non lo conosce, Giuseppe è la moglie di Putifarre, la moglie di Putifarre tenta Giuseppe, che vi ricordate era stato il minore di tutti quei fratelli, gli altri fratelli ci accordano, lo vendono, e alla fine diventa il protetto del faraone. Ecco, questa Putifarre, appunto, la moglie, scusate, di Putifarre cerca di sedurlo, lui si rifiuta e lei allora lo accusa di averla violentata. Quindi vedete il momento in cui lui si ritrae e lei invece cerca di attrarlo a sé. Ecco, questo è un tema bellissimo, ci tenevo a farvi vedere questo dipinto, perché è un dipinto da l'iconografia molto molto rara. Adamo e Eva che piangono sul corpo di Abele. Io credo di non averlo mai visto da nessun'altra parte, quindi è un'iconografia che non si trova spesso. Vedete il corpo di Abele, che è quello appunto sdraiato sotto. L'idea della morte è resa in maniera molto efficace, come in quella deposizione di Caravaggio che vi avevo fatto vedere, con quel braccio che scende verticalmente. Ricordatevi che le braccia che scendono verticalmente verso il basso sono sempre segno di morte e sono l'elemento più efficace dei dipinti e delle opere scultore più belle che trattano questo tema. Il braccio cadente così noi lo troviamo nella pietà di Michelangelo, lo troviamo nella deposizione appunto di Caravaggio, lo troviamo nella morte di Marà, di David, quando Marà è dentro la vasca da bagno e per dare il senso della morte si vede appunto questo braccio cadente. E poi dietro i progenitori. Anche qui vedete, è un chiaroscuro molto molto esasperato. Ecco, questo è un quadro che ha una storia particolare. Anche qua c'è scritto Battistero, è il correttore automatico, vedete, lo ho scritto in fretta, e vabbè, è Battistello. Questo dipinto si trovava a Valva, in provincia di Salerno, nel castello da Iala, ed era stato sottratto illegittimamente. L'aveva preso un antiquario che aveva cercato di venderlo, insomma alla fine il nucleo dei Carabinieri è riuscito a recuperarla. Non so che fine abbia fatto, se sia stato restituito da una parte o dall'altra, so che c'era una disputa tra l'Ordine di Malta e il comune di Valva e l'Antiquario, quindi erano tre che ci contendevano praticamente questo dipinto, quindi non so come sia andata a finire. Ecco, a Napoli passa diverso tempo Artemisia Gentileschi, che quindi alla formazione presso il padre aggiunge anche una formazione napoletana che risente tantissimo della produzione, diciamo così, degli elementi caravaggeschi che in quegli anni a Napoli si facevano sentire così forti. Questo è un bellissimo suo autoritratto, dove vedete che questo scorcio ce la fa vedere appunto intenta dipingere, quindi in quello che era il suo lavoro prediletto, raro per una donna. Ecco, avevamo mostrato anche l'altra volta questi bellissimi dipinti, ne ha fatti una serie, che raffigurano Giuditta e Oloferne, quindi l'eroina biblica Giuditta, che con l'aiuto della sua cameriera taglia la testa al tiranno Oloferne, quindi sempre presa come modello ed esempio di donna forte. quando ci sono dei cicli anche all'interno di palazzi, come per esempio alla rocca Medi Lupi di Soragna, che raffigurano donne forti, Giuditta e Oloferne, Giaele e Sisara, non mancano mai appunto. È una scena, vedete, molto pulp, perché c'è proprio questa serie di schizzi di sangue che vanno da tutte le parti, e questo invece è la versione del Museo Nazionale di Capodimonte, e il lenzuolo, vedete, il materasso, tutto imbrattato di sangue. C'è chi in questa, come dire, crudità con cui Artemisia rappresenta questo tema, ha voluto leggere la volontà di vendetta di Artemisia nei confronti del quadraturista Agostino Tassi, di cui parleremo tra poco per un'altra cosa, amico del padre che, come sapete, l'aveva violentata. Ecco, tra i caravaggeschi attivi a Roma, molto interessante è la figura di Carlo Saraceni, che proveniva dal Veneto, dalla laguna, e quindi, quando va a Roma e si trova a confrontarsi con la lezione di Caravaggio, va a innestare le novità del naturalismo caravaggesco su un sostrato di tipo, invece, lagunare, veneto, che, come sapete, è fatto di colore, vi ricordate il Vasari che aveva contrapposto, se volete, in maniera un po', come dire, per massimi sistemi, ma alla fine, quando si studia, è sempre opportuno avere delle categorie anche forti, grandi, no? degli schemi. Poi, naturalmente, bisogna saperli adattare e non bisogna essere troppo rigidi. Però, se uno si vuole ricordare le cose, bisogna che abbia dei punti fermi, perché altrimenti non si va avanti. Quindi, ricordatevi sempre, come aveva detto il Vasari, che la scuola toscana e quindi poi quella romana è una scuola basata sul disegno e quindi su delle forme, dei contorni netti, su delle campiture di colore che sono chiuse dalla forma del disegno, la scuola veneta, invece, è una scuola basata sul colore e quindi molto più libera e molto più, meno, diciamo così, appunto sigillata nella forma. Quindi questo San Rocco e l'Angelo, San Rocco, sapete, era un pellegrino, vedete che ha sempre la conchiglia, il cane, il bastone del pellegrino e ha sempre il bubone, perché era il bubone sulla coscia, perché era il protettore dei malati di peste. E in questo dipinto vedete che, infatti, questo chiaroscuro, molto bello, e questo naturalismo che troviamo, per esempio, nelle bende di queste specie di calze che ha i piedi e altri elementi tipici del viandante, sono rappresentati con un effetto di forte naturalismo, ma anche con un tipo di pittura che è molto più appunto libera rispetto a quella di Caravaggio, che comunque aveva una formazione invece di tipo differente. Ecco, un personaggio molto interessante che della lezione di Caravaggio aveva fatto una sorta di vero e proprio codice è Bartolomeo Manfredi. questo pittore si era messo a fare dei dipinti, vedete, tipicamente caravaggischi. Voi vedete questo dipinto, vi viene subito in mente Caravaggio, no? I tagli di tre quarti erano una delle caratteristiche dell'opera di Caravaggio, cioè tagliati a mezza gamba, mezza coscia. la luce che proviene da un lato e che taglia i volti, staglia i volti in maniera così particolare, le ambientazioni da osteria con giocatori di carte, musici, insomma, è un vero e proprio ricettario in qualche modo che Bartolomeo Manfredi codifica e che permette di fare dei dipinti alla Caravaggio. Ecco, questa sua codificazione diventa così netta, così famosa, così seguita che si parla di Manfrediana Methodus e cioè il metodo della Manfrediana il ricettario di Bartolomeo Manfredi. Questo bel dipinto ve lo mostro in questa foto in bianco e nero perché è stato uno di quei dipinti terribilmente danneggiati dalla bomba dei Giorgofili all'inizio degli anni 90. Si trovava infatti proprio su una stanza della Galleria degli Uffizi, su un ambiente della Galleria degli Uffizi che dava sul vicoletto su Via dei Giorgofili dove è stata messa la bomba. Quindi dopo il restauro questo è quello che ne rimane. Io vi ho fatto vedere la foto di catalogazione della sovrintendenza e questo è quello che rimane. Sono andati a raccogliere i pezzi in mezzo alle macerie questo è quello che sono riusciti a rimettere insieme praticamente come vedete è andato distrutto quasi completamente. Però è stato messo insieme ed è stato lasciato così quindi neanche tonalizzato proprio per ricordare questo terribile attacco. Ecco in questo caso per questo dipinto io sono d'accordo che rimanga così non sono invece d'accordo per esempio sul restauro del Guercino di Modena quel bellissimo dipinto nella chiesa di San Vincenzo a Modena che era stato commissionato dal duca Francesco I d'Este e che era sempre rimasto lì in San Vincenzo prima dello spostamento per la mostra a Venaria Reale sugli Este spostamento secondo me sconsiderato chi lo voleva vedere doveva venire a Modena e invece da lì l'hanno spostato quindi già insomma l'hanno tolto dal suo luogo d'origine e poi è arrivato questo tipo che si era tagliato con un cutter una notte l'ha arrotolato in un tappeto e l'ha portato in giro per il Nord Africa sgretolandolo naturalmente perché figuratevi una tela che dal 600 è una tela tesa e quindi il colore sarà anche irrigidito insomma viene arrotolato ci sono delle cadute di colore quindi per fortuna non sono cadute di colore nelle parti del visi nelle parti più importanti ecco io lì l'avrei reintegrato invece abbiamo le foto anche a colore abbiamo tutto si poteva integrare con un rigatino in modo da non fare vedere le lacune almeno da lontano perché adesso si vedono queste sgretolature tipo questo dipinto ecco che sono veramente brutte da vedere poi quello secondo me è un episodio non da ricordare cioè se si può anche cancellare della memoria tanto meglio comunque almeno l'abbiamo ritrovato è un bellissimo San Gregorio taumaturgo con un abito un piviale bellissimo magari ve lo farò poi vedere in un'altra occasione allora un altro interessante esponente di queste altre interessanti esponenti di questa lezione di Caravaggio sono i nordici gli olandesi i fiamminghi che si trovavano a Roma tra questi per esempio ricordiamo Nicolas Tournier che è l'autore di questo bellissimo bevitore della Galleria Estense quindi vedete che anche non solo gli italiani ma anche gli stranieri del nord Europa che si trovavano a Roma appunto negli anni di Caravaggio colgono appunto questa lezione e fanno dei dipinti un po' sempre seguendo la Manfrediana la Manfrediana Methodus tra questi anche Ter Bruggen sapete che tra poco a Modena dopo domani apre una mostra dedicata a quest'autore Sgarbi ne ha parlato ne ha parlato molto bene no no non mi veniva il nome cioè stavo cercando Vittorio ecco non mi veniva il nome Vittorio no 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 perché no no guardate io lo stimo tantissimo non pensiate che il mio essere titubante sia legato a un pensiero sbagliato perché trovo che sei una persona di una cultura eccezionale che ha visto tutto quello che c'era da vedere in Italia di sicuro dalle collezioni private alle collezioni pubbliche ha una memoria incredibile ha una capacità di riconoscimento ottima quindi è un vero storico dell'arte nel senso che è anche un attribuzionista perché ci sono per esempio Filippo D'Averio era un conosceur era bravissimo un bravissimo divulgatore ma non era uno storico dell'arte cioè si poneva davanti un dipinto e gli si chiedeva di andare a sviscerare esattamente la scuola chi era eccetera ecco magari lo si metteva in difficoltà lui era bravo a fare dei collegamenti strani Vittorio è bravissimo è coltissimo ha questo carattere particolare su cui del resto ha fondato la sua fortuna economica perché se non fosse così polemico non avrebbe appunto affatto la fortuna che ha fatto che gli ha permesso di mettere insieme una collezione la collezione Cavallini Sgarbi strepitosa perché con il suo occhio e le possibilità economiche che ha avuto un po' già di suo perché comunque era una famiglia importante e un po' perché le ha guadagnati facendo televisione in maniera un po' polemica però ha messo insieme una collezione incredibile pensate a quel San Domenico di Nicolò dell'Arca che si è assicurato nella sua collezione di cui l'altra copia è in San Domenico a Bologna per dirvi quindi c'è pezzi incredibili ma poi ho fatto solo un nome no lui ha detto appunto che è molto contento che Martina Bagnoli la nostra direttrice ormai in uscita abbia deciso di fare una mostra appunto tra l'altro qua c'è scritto Coccerto sono immagini che ho messo dentro un po' all'ultimo minuto e si vede non ho neanche avuto il tempo di rileggere bene comunque a noi interessa soprattutto l'immagine vedete guardate che bello questo gioco della luce della candela che tra l'altro noi possiamo trovare appunto in Georges de Latour che è un altro bravissimo pittore che sui giochi di luce di candela ha lavorato ha lavorato tantissimo perché a dire il vero Caravaggio lavorava più su altri effetti di luce cioè con o luci innaturali come il fascio che chiama Matteo o luci naturali l'idea di giocare con gli effetti chiaroscurali al lume di una candela invece è più tipico di questi nordici ecco poi tra gli altri ricordiamo anche Giovanni Serodine che anche lui è un bravo esponente del caravaggismo guardate questa citazione palese i piedoni pieni di calli e sporchi in primo piano che vediamo per esempio in questa chiamata dei figli di Zebedeo che è un chiaro omaggio così come anche i volti da contadini del naturalismo più sfrenato di marca appunto caravaggesca ma ora parliamo invece di quello che accade a Roma appunto grazie alla presenza di questo personaggio che si divideva tra Roma e Bologna tra Bologna meglio e Roma Bologna era la sua città di origine vi ricordo che Bologna era la seconda città pontificia quindi era abbastanza normale che i pittori bolognesi arrivassero anche a Roma perché era sempre lo stato pontificio quindi se un pittore si segnalava come un bravo pittore a Bologna quasi sempre poi riceveva importanti committenze anche a Roma allora gli esordi di Guidoreni sono esordi nell'orbita della bottega dei Carracci dell'Accademia dei Carracci quindi anche lui vedete in questa bella incoronazione della Vergine con Santi ci mostra appunto un operato che è evidentemente in linea con quel naturalismo intriso però di classicismo che è alla base dei Carracci ricordatevi questa cosa il naturalismo di Caravaggio è un naturalismo spietato diretto drammatico quello dei Carracci invece è sempre un naturalismo ma un po' più edulcorato un po' addolcito diciamo così dalla lente del classicismo che non mette le cose in maniera brutale così come le metteva Caravaggio ma le sistema un attimo le riordina e gli dà appunto questo afflatto di tipo più classico come vediamo appunto in questa bellissima immagine con questa sacra conversazione ecco naturalmente per Guidoreni uno dei modelli più importanti non poteva non essere che Raffaello Sanzio vi ho raccontato due cicli fa che gli autori miliani che volevano studiare studiare Raffaello ma che non avevano modo di andare a Roma a vedere le opere di Raffaello potevano andare in due posti in Emilia Romagna anzi in Emilia e cioè a Bologna in San Giovanni in Monte dove si trovava la Santa Cecilia che vi sto facendo vedere adesso e a Piacenza in San Sisto dove si trovava la Madonna Sistina quella dei due famosi angioletti che si vedono da tutte le parti che è stata poi portata a Dresda e vedete infatti che l'idea degli occhi al cielo di questa Santa Cecilia è alla base di tutti gli occhi al cielo che noi troviamo nelle opere di Reni quindi praticamente la sua formazione è da una parte raffaellesca e dall'altra sulla base dello studio di Annibale Carracci quindi sono queste le due componenti questa è l'assunzione di Annibale Carracci ecco vi faccio vedere questa di Guidoreni vedete che abbiamo la Vergine con gli occhi al cielo torniamo un attimo indietro vedete che in quella di Annibale invece la Vergine aveva uno sguardo che noi non riuscivamo neanche a vedere perché era appunto girato dietro e riprende quindi quell'idea del teatro degli affetti guardate il gioco delle mani che meraviglia di questi apostoli che assistono alla scena con tutta questa varietà di gesti che stanno a significare lo stupore abbiamo detto l'altra volta che nel tema dell'assunzione lo stupore era essenziale da rappresentare quindi lo registra e fa quello che faceva Annibale ma in più guardando a Raffaello vedete innesta questa novità delle sante inestasi o delle madonne inestasi con questi occhi al cielo che noi ci trascineremo in Emilia fino a tutto il Settecento fino ai Gandolfi e come vi dicevo è la ragione per cui voi entrate in qualsiasi chiesa emiliana antica chiaramente e non potete non trovare un dipinto con una santa messa con gli occhi al cielo così perché era proprio un topos assolutamente importante ecco qui vedete siamo ancora nel 1600 quindi prima della sua andata a Roma prima della visione diretta delle opere di Caravaggio ecco questo è un ingrandimento ma guardate che meraviglia queste mani è proprio è come se fosse un dialogo di mani è un tutto giocato appunto con questo bellissimo gioco di mani tutto questo complottare di queste persone che dicono ma cosa è successo ma cosa sarà ma è possibile alcuni che guardano al cielo alcuni che si confrontano e parlano tra di loro è veramente un'opera bellissima e si trova a Pieve di Cento nella chiesa parrocchiale cioè vedete quindi il bello che essendo un autore nostro lo possiamo trovare tutto sommato in casa nelle chiese anche quasi di provincia ecco come vi dicevo quando arriva a Roma però si scontra con la visione di Caravaggio e un pittore intelligente e bravo come Guido che veniva detto divino lo chiamavano il divino Guido se c'era un pittore che aveva avuto fortuna in vita era Guido Renie strapagato cercato da tutti non era un pittore di quelli che ha dovuto aspettare di morire e due o tre decenni almeno dopo la sua morte prima di essere capito no era cercato da tutti il nostro Francesco I i nostri duchi cercheranno di avere dei dipinti appositamente fatti per loro non ce la fanno pensate un po' anche il duca di Modena non riesce quello che riesce ad avere di Renie lo va a prendere o sul mercato antiquariale o nelle chiese andando a prendere gli originali che si trovavano nelle chiese e quindi alla base vedete della suggestione di Caravaggio c'è questo bellissimo martirio di San Pietro del 1604 1605 vedete due o tre anni dopo che Caravaggio aveva dipinto invece appunto in Santa Maria del Popolo l'altro dipinto che vi ho fatto vedere prima molto forte anche questo guardate com'è appunto naturalistico e come risenta in maniera forte appunto della pittura di Caravaggio anche l'ambientazione è comunque raffinata elegante c'è vedete il sostrato che risente della pittura veneta di Annibale Carracci guardate che bello quel paesaggio ci ricorda quel paesaggio che abbiamo visto nel San Sebastiano vi ricordate che vi ho fatto vedere l'altra volta di Annibale di Annibale Carracci e ancora guardate qua siamo nel 1605 ad Albenga nel Muglio di Ocesano c'è questo martirio di Santa Caterina d'Alessandria anche qui vedete la la composizione è fortemente caravaggesca ma la Santa Caterina d'Alessandria è messa appunto presentata con questi occhi al cielo come abbiamo visto appunto la la Santa Cecilia di 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 Raffaello ecco infatti ve l'ho rimessa ancora per metterla diciamo così a confronto ecco un altro bellissimo dipinto è questo gli apposto di Pietro e Paolo ecco un dipinto come questo vedete uno lo vede 1605 1606 e dice com'è caravaggesco però se lo osserviamo attentamente in realtà su quel naturalismo tutto sommato abbastanza libero di Caravaggio si va a nestare invece una progettazione della composizione in maniera altamente geometrica guardiamolo con l'aiuto del tracciamento delle linee vedete come tutto si è composto per diagonali che si intersecano in maniera perpendicolare tra di loro quindi la gamba vedete dal piede al ginocchio e poi tutto il corpo crea una diagonale perfettamente perpendicolare con la diagonale del gomito invece che va verso la mano e dello sguardo che punta verso l'altro protagonista ancora le due mani di Paolo che è quello in piedi per intenderci le due mani di Paolo vedete che creano un'altra diagonale o ancora appunto quelle invece che puntano verso il basso e la stessa contrapposizione tra diagonali costruite sul corpo di Pietro e rette invece verticali costruite sulla posizione verticale del corpo di Paolo quindi è molto molto attento questo studio ecco queste sono tutte caratteristiche sempre di quelle che noi definiamo la pittura classica appunto cioè quando la lente della ragione va a modificare quelle che potrebbe essere appunto la realtà questo è un dipinto di Caravaggio che si trova a Vienna al Cunzi Storicis la figura del giovane Davide con la testa di Golia andiamo a vedere appunto tra l'altro nella testa di Golia è raffigurata la testa di Caravaggio quindi l'idea appunto di Caravaggio che si si percepisce come martire appunto per tutto quello che gli stava accadendo in quel in quel momento quindi si rappresenta con come se fosse stato ucciso ecco il tema viene trattato anche da Reni circa nello stesso momento tra il 1605 e il 1606 ma vedete che Reni lo affronta invece in maniera differente si ispira al cosiddetto Apollo Sauroctonos che significa in greco quello che uccide la lucertola praticamente e infatti vedete che è pronto con la manina per dare una mazzata alla lucertola che si vede sul tronchetto non so se vedete qui c'è la lucertolina vedete e lui è pronto con la mano lì per zac per catturare la lucertola vedete che la postura è praticamente la stessa quindi anche questa idea di andare a prendere i modelli delle delle posture delle pose appunto delle protagonisti delle opere dalla scultura classica è un elemento tipico di un tipo di pittura che non si può più definire una pittura di stampo prettamente naturalistico quindi con lo studio del vero ma piuttosto appunto un tipo di pittura dal gusto appunto classicistico bellissima questa Santa Cecilia guardate anche questa ecco di Caravaggio resta il gioco chiaroscurale molto accentuato con questo fascio di luce resta la figura a tre quarti che è un altro elemento caratteristico della pittura di Caravaggio ma questo pathos che noi troviamo nella figura di Cecilia è invece tipicamente regnano e diventa una sorta di parallelo come giustamente ha rilevato Ezio Raimondi che è stato un grandissimo docente di letteratura italiana all'università di Bologna che ha avuto modo di avere nell'ultimo biennio di insegnamento prima che andasse in pensione quando parlava del tasso e della poetica del tasso Raimondi instaurava un parallelo con la pittura di Reni e diceva che entrambi attraverso una accentuazione un'esasperazione un'acutizzazione del pathos riescono a trasmettere meglio quello che è l'ethos del personaggio cioè la disposizione d'animo quello che stanno provando appunto i personaggi ma sempre dentro la lente della ragione cosa intendiamo dire? che per esempio una madonna che piange ai piedi della croce suo figlio che hanno messo in croce in un dipinto di Reni non la vedremo mai deformarsi il volto in un grido come quello di una madre che vede suo figlio su una croce ma troveremo al massimo una donna così con gli occhi al cielo quindi questa idea di faccio vedere il dolore attraverso gli occhi al cielo ma è un dolore controllato dalla ragione è un dolore dignitoso un dolore che non fa sì che la madonna in questo momento appunto si sbrachi tutta o si deformi appunto nel volto come in altri casi vediamo pensate per esempio anche a Niccolò dell'Arca nel compianto in Santa Maria della Vita a Bologna dove c'è quella maddalena bellissima che però si getta in un grido di dolore che poi ricorda anche quel bellissimo frammento che abbiamo fatto vedere di Ercole di Roberti ecco anche quest'altra Santa Caterina vedete tutte figure che appunto molto eleganti dignitose con questi occhi al cielo che abbiamo detto diventeranno un prototipo notevole vi faccio notare anche le gamme cromatiche guardate come sono belle preziose sempre molto molto eleganti e la pittura di Reni in questi anni degli esordi è una pittura perfetta smaltata fatta per velature sottilissime in successione quindi non è una pittura di materia noi non riusciamo a vedere la pennellata del pittore perché le fa appunto in maniera molto smaltata molto elegante vedremo che alla fine della sua carriera quando sarà anziano invece approderà a un disfacimento della forma che non può non ricordarci l'analogo percorso per esempio di Tiziano vi ricordate che anche Tiziano era partito con una pittura preziosissima il rosso Tiziano è un esempio i suoi bellissimi blu che si potevano comprare soltanto a Venezia eccetera i verdi e poi arriverà invece a una pittura quasi monocroma proprio come farà anche Reni una dei vertici più importanti della sua pittura è questo dipinto del 1616 La strage degli innocenti che è un dipinto stupendo che veramente può incarnare l'idea stessa della pittura della pittura classica del 600 è un dipinto che diventa una sorta di grido incredibile ecco qui invece vediamo che per esempio ci sono degli elementi proprio di accentuazione della parte emotiva molto forti che si smorzano man mano che la composizione scende verso il basso se voi guardate abbiamo appunto sotto alle nubi dove i puttini distribuiscono come se fossero così fiori le palme del martirio quindi non sono covoni di grano come può sembrare quelli che hanno in mano sono le palme del martirio che danno a tutti questi bimbi e ne uccide così tanti la strage degli innocenti che ne hanno vedete dei fasci come vedete l'urlo delle due madri quella che sta scappando con i bambini in braccio che ha di fianco una testa ancora più deformata dal dolore cioè questa vedete come è appunto con lo sguardo oppure quest'altra che viene presa per i capelli da questo carnefice che cerca di di trattenerla per poterle strappare il bambino di braccio dalle braccia e man mano che scendiamo invece verso il basso questa sorta di dolore che appunto a questo livello è al climax massimo è come se si smorzasse fino ad arrivare vedete alla staticità della morte dei corpicini ormai senza vita che ci sono in basso con la madre vedete quella vestita di rosso di blu e di giallo anche qui vedete i colori primari quindi sempre gamme cromatiche molto arcese molto vivide che ormai non può far altro che pregare con gli occhi al cielo quindi però vedete che è un dolore un po' più cioè come dire ormai già interiorizzato ecco anche questo dipinto è un dipinto costruito proprio geometricamente in maniera molto molto forte se noi andiamo a vedere vedete si possono tracciare delle direttrici evidenti che convergono tutte verso quel punto della veste da cui appunto sembra scaturire tutto questo vero e proprio ventaglio di dolore è una composizione a v rovesciata con questo bellissimo elemento dell'incrocio delle braccia vedete di quel carnefice e il pugnale che si vede al centro torniamo un attimo indietro vedete diventa una sorta di ago che calibra il tutto leggermente inclinato perché se fosse stato troppo dritto la simmetria sarebbe stata eccessiva quindi ci deve essere sempre anche quando si compone in maniera così ordinata quell'elemento diciamo così un po' perché se no risulterebbe un po' troppo falsa la la composizione ecco comunque è un dipinto della Pinacoteca di Bologna già nella Basilica di San Domenico nella Cappella Berò tra i più alti e i più famosi di Guido che fu chiamato anche sempre nella stessa chiesa di San Domenico ad affrescare la meravigliosa il meraviglioso catino absidale della Cappella dell'Arca di San Domenico perché sapete che San Domenico è morto a Bologna quindi è stato seppellito appunto in San Domenico e quindi lo vediamo vedete protagonista San Domenico al centro tra le figure di Cristo e della Vergine sotto la colomba dello Spirito Santo ammantato da una luce divina di colore giallo in mezzo ad una gloria angelica in una composizione che a tutti gli effetti è già una composizione di stampo barocco e che deve le sue diciamo così i suoi effetti alle novità che a Roma andava a promulgare anche un parmense che è Giovanni Lanfranco di cui parleremo tra poco lui veniva da Parma aveva negli occhi le cupele del correggio e quindi apre a questo tipo di grande decorazione ecco questa foto che vedete ha i tracciati con scritto 1, 2, 3 RF che servono per non farlo utilizzare sono quelli del copyright per cui se paghi te la danno senza griglie però a me è piaciuta tantissimo perché qua non c'è neanche bisogno che mettere le griglie per fare vedere la geometria vedete che queste griglie del copyright diciamo così in realtà sono quelle che accompagnano le diagonali stesse della composizione che vedete viene ad essere costruita proprio secondo un dettato prettamente prettamente geometrico e San Domenico come ha gli occhi al cielo vedete anche qui anche i maschietti non solo le donne sono sempre tutti in estasi poi il 600 non dimentichiamolo è il secolo delle estasi pensate alla transverberazione di Santa Teresa d'Avila nella cappella appunto non so non mi viene il nome comunque in Santa Maria della Vittoria a Roma c'è quella meravigliosa cappella di Bernini dove c'è appunto la transverberazione di Santa Teresa queste sante mistiche del 600 che nei loro testi scrivevano degli incontri avuti con il divino in termini quasi di orgasmo a tutti gli effetti quindi questa transverberazione che è poi la freccia che gli penetra il cuore quindi che anche dal punto di vista come dire dell'analisi freudiana ha dei legami molto forti anche con la stessa penetrazione e quindi l'orgasmo è legata diciamo così a questa particolare sensibilità allora nel 1614 Guidoreni viene incaricato di lavorare all'Aurora nel casino Palavicini Rospigliosi già borghese è un dipinto bellissimo che avrà una fortuna straordinaria quindi lo vediamo in innumerevoli coppie dove vediamo il carro di Apollo accompagnato appunto dalle muse che è preceduto dall'Aurora l'Aurora che come dicevano i testi greci è Rododattila questa parola dal greco che significa con i polpastrelli rosa perché è lei che tocca appunto il cielo e gli dà questo colore rosato che apre appunto al giorno infatti vedete che lei che è quella che vediamo qui è in mezzo a un cielo dai toni ancora rosati mentre il carro di Apollo è circondato appunto da questa luce guardate la meraviglia degli svolazzi una composizione che richiama proprio Raffaello è evidente in questo caso il tema di Raffaello vedete come siamo ormai lontani da Caravaggio già nel 1614 quindi Reni dopo una prima fascinazione lo abbandona completamente Caravaggio qui non c'è più nulla del dibattito chiaroscurare della luce di Caravaggio proprio zero anzi siamo di fronte a un tipo di luce molto diffusa molto compatta di tipo appunto più classico ecco una pala molto bella è la cosiddetta Pietà dei mendicanti è molto bella perché risolve un problema che c'era sempre quando si faceva una pala d'altare e cioè raccordare la parte divina che di solito stava in alto con la parte di sotto che è quella dove c'erano i santi intercessori perché abbiamo detto che la controriforma proponeva sempre delle pali d'altare dove c'era il divino in alto noi siamo in basso ai piedi del quadro in mezzo tra il divino e noi ci dovevano stare i santi allora come viene risolto in questo caso si fa finta che questo consesso di santi che noi vediamo in basso vedete c'è il modellino di Bologna molto bello che viene appoggiato sul gradino in basso ci sono questi putti che giocano con la mitra con la palma del martirio con gli oggetti dei santi che vediamo sopra apro d'inciso i putti che giocano con la mitra sono stati copiati paro paro da un pittore che lavora anche a Sassuolo nella pala nella chiesa di San Giuseppe quindi per esempio i pittori poi giravano attorno alla bottega di Reni poi ci divertivano a prendere dei pezzettini e a copiarli ecco ma la cosa divertente è che questi santi tra cui riconosciamo al centro l'avete riconosciuto tutti ecco qui facciamo un po' di lezione anche di iconografia perché dovete imparare a riconoscere i santi e lo dovete fare da soli pian piano perché è più bello quando andate nei musei riconoscere i miti riconoscere i personaggi e non ci vuole tanto basta solo piano piano un poco alla volta voi vi ricordate studiate un dipinto memorizzate gli attributi iconografici e la volta dopo che trovate un altro dipinto con gli stessi attributi iconografici lo riconoscete subito allora un cardinale con la cotta di solito plissettata come in questo caso una cotta plisse possiamo dire e un po' magrodino un po' scavato con un naso molto acquidino una una capigliatura molto stempiata vestito da cardinale quindi con il rosso porpora è quasi sempre San Carlo Borromeo un santo molto importante per la controriforma quindi al centro vedete San Carlo Borromeo poi quello con il piviale inginocchiato con le mani giunte il piviale è il mantello che portano i vescovi e infatti vedete che dietro c'è un angioletto che ha il pastorale quel bastone con il ricciolo che è tipico dei vescovi e in primo piano c'è la mitra che è il copricapo che portano i vescovi se c'è il modellino di Bologna lì che vescovo sarà perché quando ci sono i vescovi il problema è che sono tutti uguali i vescovi bene o male e quindi ci deve essere quell'elemento in più che vi fa capire se ci fosse stata Modena sotto con la Ghirlandina sarebbe stato San Geminiano ma visto che c'è Bologna con le due torri è San Petronio perfetto poi riconosciamo alle spalle di Petronio un santo dominicano con il libro in mano studiosi dominicano quindi San Domenico dall'altra parte invece riconosciamo un bel santo vedete con l'armatura e la veste adesso mi viene il dubbio chissà che santo è mi viene il dubbio ma c'è una c'è una spada poi non vedo niente però ha una palma sarà un martire ma ma però non c'è mica il drago vedo mica una testa di drago vabbè questo lo vado a vedere a modo e ve lo dico l'altro è sicuramente San Francesco quindi non c'è dubbio è un francescano San Francesco allora come vi dicevo qual è l'idea geniale è far finta che questo consesso di santi sia ai piedi di un drappo teso davanti a due colonne vedete quel bordino che vediamo qui questa linea netta è come se fosse il bordo di un vessillo di un drappo quindi i santi che vediamo non diventano quindi un'immagine in mezzo alle nuvole come di solito facevano i pittori per rappresentare la visione ma diventa proprio un gonfalone come teso tra le due colonne dove c'è questa bellissima Madonna con una vera e propria pietà insomma con la Madonna con il Cristo deposto davanti agli occhi ecco un altro tema molto bello che Guidoreni ha reso sempre in maniera incredibile è il tema della crocifissione questo era già per la chiesa dei Capuccini vediamo questo Cristo Eburnio che si staglia sulle nubi grigie la Maddalena con i capelli rossi la madre di Gesù vedete si possono rilevare anche dei pentimenti vedete questo doppio questa figura che si vede qui è un pentimento cioè l'aveva fatta diversa poi dopo c'è tornato sopra solo che le velature quando si nasconde appena le fai coprono bene quando passa il tempo invece magari dopo si torna fuori un po' del colorino che c'è sotto quindi dopo si vedono un po' queste immagini che sembrano un po' sdoppiate il tema del Cristo che sta morendo sulla croce è un tema che Reni ha sempre affrontato in maniera splendida avviando una iconografia da Santino che è quella che ci portiamo avanti ancora noi oggi perché questo è il classico Cristo con coronato di spine che troviamo sui comodini a capoletto di tutte le nostre case insomma quindi con questa bella barbetta anche qui vedete con gli occhi al cielo la stessa immagine del resto che troviamo su uno dei dipinti più iconici che raffigurino la crocifissione e che avevate voi a Reggio Emilia che si trovava nell'oratorio delle cinque piaghe questa bellissima crocifissione del 1636 che però piaceva al duca di Modena e quindi che è stata prelevata come tante altre cose come la notte del Correggio eccetera da Modena è stupendo perché vedete qui la crocifissione addirittura elimina i dolenti e quindi diventa essenziale quasi appunto metafisica che la pittura di Reni è un po' sempre anche questo cioè tende ad andare seguendo l'idea ad andare oltre proprio anche l'effetto naturale e quindi questo bellissimo corpo di un biancore burnio con questo svolazzo del tutto innaturale questo perizoma che va verso l'alto ci fa capire che siamo in una dimensione che non è quella della gravità della della terra e poi lo stesso corpo che è un corpo che è macchiato di goccioline di sangue ma è un corpo scultorio bellissimo non sembra un corpo sofferente sulla croce e non si percepisce neanche come nei dipinti invece di Van Dyck per esempio del 600 il peso del corpo inchiodato alla croce vedete come se fosse semplicemente con le braccia distese un dipinto veramente stupendo ecco ma altri dipinti meravigliosi per esempio questo Sansone vittorioso che era un sovraccamino di palazzo Zambeccari Sansone sapete che era il paladino appunto che aveva sconfitti i filistei e lo aveva fatto semplicemente servendosi di una mascella d'asina ecco vedete quello che tiene in mano quello strano oggetto è una mascella d'asina che è la stessa mascella con la quale dopo aver sterminato i filistei Dio fa scaturire una fonte in modo che Sansone potesse bere e soddisfare quindi la sua sete a questa fonte e lui utilizza la stessa mascella con cui ha ucciso tutti i filistei prendendo l'acqua e bevendola quindi vedete bellissimo questo gesto dall'altro quindi quando vedete uno mezzo nudo forte con una mascella d'asina è sempre Sansone che a volte può essere rappresentato con una donna che cerca di tagliargli i capelli e questo è sempre un altro tema cioè Sansone e Dalila ma c'è sempre anche la mascella d'asina poco lontano un altro bel dipinto in due versioni diverse è l'Atalanta e il Pomene che è un tema divertentissimo sapete che c'era questa Atalanta che non voleva sposarsi e quindi tutte le volte praticamente che qualcuno chiedeva la sua mano lei diceva facciamo una gara se vinco io ti uccido se vinci tu mi sposi e vinceva sempre lei perché era velocissima allora cosa fa invece il Pomene sul suggerimento appunto di una divinità si fa dare tre pomi d'oro e mentre corre cosa fa lancia in avanti questi pomi d'oro lei Atalanta sta correndo davanti ai Pomene ma vede questo pomo dorato si ferma per accoglierlo e poi si ferma per accogliere l'altro insomma alla fine vince i Pomene e quindi Atalanta fregata si deve sposare con i Pomene ecco si potevano scegliere mille momenti di questa gara tra i due invece vedete viene scelto un momento che diventa un momento statico alla fine e costruito sempre sull'incrocio delle diagonali non sembrano correre i personaggi quindi come se il tempo fosse stato bloccato anche questo sempre in maniera molto beh lasciamo stare lo svolazzo che va proprio lì a coprire a coprire il sesso di Pomene già Guidoreni quando rappresentava i sessi lo vediamo bene qui direi alla faccia della miniaturizzazione cioè proprio vedete l'idea di mentre prima con il il manierismo era tutta un'esaltazione anche della sensualità eccetera qui invece vedete siamo dopo la contro riforma bisogna sì c'è perché vabbè è un maschietto però lo facciamo proprio al minimo meno di così quasi non si vede come vedete e ecco molto grazioso questo bacco e Arianna anche questo è un dipinto tipico della sua produzione proprio quindi questa Arianna che sta piangendo sull'isola di Naxos perché appena è stata abbandonata da Teseo sapete Arianna gli aveva dato il gomitolo l'aveva aiutato e poi dopo vanno in viaggio di nozze per l'isola di Naxos Teseo la molla lì si stanca e va via e quindi Arianna è stata piantata a Naxos piantata a Nassos piantata in Asso è il modo di dire piantare in Asso che tradotto letteralmente non vuol dire niente deriva da questo mito arriva però Bacco che la vede piangente e se ne innamora e allora Lorenzo il Magnifico nella canzone di Bacco e Arianna giustamente dice mi lascia un uomo mi trova un dio quindi quando siamo lasciati dai nostri amori pensiamo che ci può essere qualcosa di meglio dopo e smettiamola di piangere molto bello questo Ercole sulla Pira dal Museo del Louvre anche qui vedete questo bellissimo questa posa scultoria ecco qui vediamo una cosa interessante vedete siamo nel 1617 il corpo di Ercole è rappresentato però non con quel vigore che ci saremmo aspettati in questo tema vedete è un uomo maturo quello che vediamo qui e il fisico è muscoloso ma già quelle decadenze che ho riscontrato anche nel mio insomma alla scioglia dei 50 perché ho 48 anni quindi uno dice non è più come una volta vedete anche quella pieghettina lì davanti all'ombelico studi sicuramente vedete dal vero come vediamo appunto in questo disegno quindi non è più il torso del bel vedere che fa da modello cioè la scultura ellenistica tutta tornita che era servita da modello a Michelangelo ma si va a guardare il vero in questo caso anche all'anatomia appunto di un uomo maturo celebri sono iconografie come quella di questa bellissima Maddalena penitente che vediamo appunto in questa grotta noi avevamo fatte diverse diverse edizioni e diventeranno così iconiche che anche Gian Lorenzo Bernini nel monumento funebre a Papa Urbano VIII quando raffigura la giustizia nel 1644 vedete farà un omaggio alla Maddalena di Reni rappresentando appunto la figura della giustizia nella stessa posa in cui aveva messo Reni la sua figura ecco questa è un'altra celebre opera di Reni il cosiddetto Paglione della Peste sapete che l'Emilia come tutto il nord Italia nel 1630 viene toccato dalla terribile pestilenza di cui ci parla Manzoni nei Promessi Sposi e realizza quindi questa pala che diventa poi un prototipo utilizzato tantissime volte quindi con la figura della Vergine in alto seduta quasi in trono sulle nubi e sotto il consesso dei santi ad esempio anche la pala che abbiamo a Sassuolo di Jean Boulanger in San Giorgio con la Madonna in gloria e sotto tutti i santi è una delle tante epigoni delle tanti eredi di questo modello appunto del Paglione della Peste allora vediamo se siamo bravi a distinguere tutti i santi che troviamo allora al centro San Francesco è vero non c'è dubbio poi quello col piviale e la mitra davanti c'è Bologna è un dipinto fatto per Bologna San Petronio e siamo sicuri poi abbiamo dall'altra parte con il giglio bianco e l'abito da domenicano è San Domenico che ha sempre raffigurato che col giglio c'è anche un altro però col giglio che vedete tra San Francesco e San Domenico è vestito con un abito talare e quindi potrebbe essere San Luigi Gonzaga che era stato da poco nominato santo di nuovo troviamo quel santo con l'armatura che però è diverso chissà chi è? può essere brava vedi che sei più brava di me brava ecco e poi dall'altra parte invece abbiamo di nuovo quel santo romano con la spada quindi sarà sempre un abbinato forse a quello andremo a vedere e l'altro invece che potrebbe essere chi? potrebbe essere l'altro ma? un Sant'Ignazio forse ce l'ha un po' da Sant'Ignazio da Gesuita chissà ma beh andremo a vederlo quindi vedete insomma quello che vi voglio dire è anche la curiosità quando andate in un museo invece che andare subito a leggere l'etichetta la didascalia provate voi a fare questi esercizi di lettura poi se non ce la fate vi fate aiutare e così poi memorizzate perché a volte ci sono anche sbagliati cioè li trovate sbagliati pensate che soddisfazione andare dal direttore e dire guardi che c'è la didascalia sbagliata dovete essere sicuri prima di farlo allora questa Salome con la testa del Battista è un'altra bellissima opera di Reni vedete che anche qui non c'è sangue non c'è tutto molto edulcorato e questa Salome non può non ricordarci le Sibille di Domenichino di cui parleremo tra poco perché poi naturalmente tutti questi pittori si guardavano gli uni con gli altri ecco guardate man mano che va verso la fine della sua carriera lui muore nel 42 come si approdi ad un disfacimento della forma anche questo dipinto sembra quasi un non finito non ha più quello smalto che trovavamo appunto nelle opere iniziali anche il colore guardate addirittura questa Cleopatra i tratti di colore sono velocissimi sono proprio pennellate molto molto veloci le mani sembrano non finite e la gamma cromatica va sempre più verso un monocromo che addirittura in questo che considera la fanciulla con corona che è considerato l'ultima sua opera in realtà poi quella corona sembra essere un uroboros abbiamo già parlato del serpente che si morde la coda simbolo poi dell'eternità ecco andiamo a vedere invece un altro autore che è appunto Domenichino chi lo sono? allora Domenichino segue sempre bolognese anche lui segue la stessa linea di questo tipo di classicismo con un rigore disegnativo ancora più forte questa è la bellissima morte di Santa Cecilia che si trova nella cappella di Santa Cecilia in San Luigi dei Francesi quando andate a Roma tutti vanno in San Luigi dei Francesi a vedere la cappella Contarelli di Caravaggio e la gente non considera sto povero Domenichino che è nella cappella non proprio di fronte è la seconda la cappella Contarelli è la terza di sinistra questa è la seconda di destra andatelo a vedere anche Domenichino poverino perché merita anche lui con questa bella figura appunto sempre con gli occhi al cielo quindi vedete questa ambientazione all'antica con questi personaggi sembra proprio di vedere un novello Raffaello quindi anche qui il disegno è appunto sempre molto molto importante e infatti in questa Santa Cecilia che distribuisce i propri beni non può non venirevi in mente nelle sale vaticane l'incendio di Borgo di Raffaello vi ricordate dove c'erano le figure appese che si tiravano su non so se l'ho messo come no non l'ho messo come immagine di raffronto ma è proprio una citazione molto molto chiara appunto dall'incendio di Borgo di Raffaello ecco la Sibilla Cumana è uno dei suoi dipinti più belli e famosi le Sibille tra l'altro offrivano sempre il destro per turbanti per abiti dai tratti esotici che erano sempre molto apprezzati e molto belli guardate l'ovale proprio raffaellesco c'è proprio un'idealizzazione evidente questa non è una ragazza che esiste davvero che è stata presa a modello qui di naturalismo non c'è nulla se in Guido c'era una matrice naturalistica che era data dai Carracci da Nibale e un po' da Caravaggio in Domenichino invece manca del tutto c'è però una sensibilità invece molto bella per il paesaggio che però è sempre interpretato in chiave classicistica e quindi è sempre interpretato in modo bucolico quindi il paesaggio è costruito per quinte successive per dare l'effetto della profondità se c'è un albero di qui ci deve essere un albero di là l'albero non è mai distrutto spezzato da un fulmine ma ha sempre le sue fronde molto molto pittoriche anche questo tema il guado vedete molto molto grazioso abbiamo detto che era stato Annibale che aveva aperto alla via del paesaggismo classico in ambito classicista però si affermano delle tendenze dogmatiche e accademiche cioè le novità del classicismo di Reni e Domenichino vengono prese un po' troppo con rigore da alcuni pittori come ad esempio Francesco Albani che diventerà famoso per questo tipo di pittura con dei puttini molto graziosa ambientata magari nei paesaggi cioè un tipo di pittura che alla fine diventa una pittura di tipo decorativo proprio e quindi poco interessante da altri punti di vista ma sicuramente graziosa e qui vediamo questa allegoria della terra un altro esempio è la versione devozionale che per esempio ne ricava il sasso ferrato tutte le madonne che noi troviamo rappresentate nell'iconografia diffusa da capoletto sono quasi tutte del sasso ferrato il sasso ferrato era un madonnaro nel senso non è che quelli che facevano le madonne in piazza per terra ma faceva proprio la madonna le iconografie e diventano appunto celebri queste iconografie bellissimi ecco i panneggi nel seicento abbiamo proprio un momento in cui i panneggi vengono resi e studiati con grande cura guardate la meraviglia per esempio del bianco perché il blu insomma è già più facile da lavorare ma il bianco che è difficilissimo per ottenere questi effetti di luce e di ombra e ora veniamo a parlare dopo aver parlato di Guido dell'altro polo più importante della pittura emiliana della prima metà del seicento che è Guercino cioè Giovanni Battista Barbieri detto il Guercino perché aveva un occhio balugo aveva un occhio che andava per conto suo era guercio questo però non ha inficiato la sua pittura lui poverino c'è sempre rimasto comunque molto molto male cioè ha sempre sofferto per questa per questa deformazione ma è stato un pittore straordinario che ha esordito nella zona di Cento lui era nato infatti a Pieve di Cento con tratti molto molto carracceschi vedete infatti per esempio questo miracolo di San Carlo Borromeo l'avete riconosciuto San Carlo Borromeo vedete col solito nasone l'abito da cardinale e la cotta bianca plissettata sotto è appunto San Carlo Borromeo che si affaccia sopra questo cammino vedete questa idea non naturalistica in questo caso cioè viene improvvisamente in cucina in mezzo al fumo della cucina viene fuori appunto San Carlo Borromeo e la figura appunto di questa bambina che è l'unica che vede il santo vedete che le altre due sono intente a fare le loro cose una in braccio il bambino l'altra sta accendendo il fuoco e c'è la bimba che tira per la veste quella che sta accendendo il fuoco e col ditino gli dice guarda c'è San Carlo Borromeo oppure c'è un signore sopra il camino e queste due che dicono motese cagam da la purer e sono tutte impegnate e il gatto che si gira perché anche lui non vede c'è anche il gattino davanti quindi un'ambientazione molto naturalistica molto alla alla Carracci in particolare che risente di Ludovico ecco anche questo vedete l'avete riconosciuto San Carlo vedete com'è maciato poverino magro magro è bruttino è molto bruttino con un nasino sempre brutto la cotta tutta plissettata sta pregando e ci sono questi due bellissimi angeli guardate lo svolazzo dei tessuti com'è leggero questo sarà solo in una fase iniziale di Guercino in questo caso sembra guardare un po' anche alla pittura appunto in quegli anni di un altro esponente della pittura emiliana che guardavo un po' la pittura veneta adesso non mi viene il nome ecco sicuramente Guercino ha una sensibilità per il paesaggio che è strepitosa io ho avuto modo di fare delle schede in alcune mostre su paesaggi di Guercino per il catalogo e quindi me ne sono sempre studiati abbastanza bene i suoi paesaggi sono bellissimi sono veramente incredibili sono humorosi sono naturali hanno intanto questa macchia meteorologica soprattutto quelli della prima fase che è veramente incredibile guardate che bello questo cielo questo cielo un po' sempre dai tratti cupi un po' corrusco che deve moltissimo ai cieli dello scarsellino autore ferrarese che a cui sicuramente Guercino guarda ma lui poi ci aggiunge questa vena queste creste di luce che sono stupende e anche qui vedete che è un tipo di paesaggio che non è più il paesaggio idilliaco quello che abbiamo visto per esempio in Domenichino guardate questo albero secco con un ramo spezzato non bilanciato dall'altra parte da un altro albero cioè è un paesaggio che è molto più emotivo rispetto all'altro qui invece è un esempio bellissimo che precede per esempio anche le soluzioni poi del pittore Fiammingo Lys queste bagneuse che anticipano le bagneuse che troveremo poi nella pittura anche impressionista dell'Ottocento francese molto molto bello anche quest'opera ecco il Guercino della prima maniera che possiamo vedere bene qui perché prima maniera perché è un autore Guercino che ha avuto due fasi di produzione e viene quindi detto Guercino prima maniera o seconda maniera il San Gregorio Taumaturgo di Modena quello rubato era proprio a metà tra la prima e la seconda maniera la prima maniera è quella che vediamo in questo San Girolamo in atto di sigillare una lettera è la maniera che piace di più agli storici dell'arte perché è una maniera molto humorosa molto molto pittorica molto naturalistica guardate anche qui questi piedoni messi in primo piano questi piedoni sporchi questi effetti di contrasto della luce di tipo caravaggesco ma il tutto innestato su un tipo di pittura dal ductus dal tocco molto molto libero di tipo veneto ma addirittura pastoso cioè guardando questi dipinti noi riusciamo ad individuare proprio quello che doveva essere stato il gesto del pittore mentre pennellava perché si vedono proprio le pennellate dense di colore come in quest'opera che è una delle più belle di Guercino che possiamo trovare qua vicino alla Galleria Estense proviene da Carpi dalla chiesa di San Bernardino e rappresenta il martirio di San Pietro e visto da vicino questa è una pala enorme quindi la foto non rende ma visto da vicino ci sono veramente soprattutto nella camicetta del carnefice degli effetti bellissimi proprio di queste pennellate date di tocco e guardate che bella la macchia meteorologica del blu che blu intenso che troviamo anche qui nel cielo ecco uno direbbe beh Guercino allora costruisce meno i suoi dipinti e no anche lui li costruiva molto attentamente ci sono sempre centinaia di disegni che precedevano l'opera eseguita e anche in questo in realtà noi riusciamo ad individuare non so se lo segnate no allora ve lo faccio con il laser delle diagonali è un dipinto costruito sulla sulla struttura del chiasmo cioè della lettera greca chi che sembra una X guardate questa diagonale del piede che sale e quest'altra del braccio del brappo e della mano che va da questa parte quindi di forma vedete una vera e propria X anche qui il carnefice guardate com'è brutto questo carnefice c'è forse troppa luce lo vedo adesso perché io poi non mi ero girata magari la prossima volta cerchiamo di fare più buio almeno da questa parte perché per esempio questa si si perde molto non si vede bene ecco il carnefice che ha questa faccia butterata sempre per quel concetto che dicevamo della carlocagazia cioè ciò che è bello è buono ciò che è cattivo deve essere per forza brutto guardate che bello anche questo Erminia e Tancredi anche qui sempre questi cieli corruschi questa pittura appunto fatta proprio di pennellate molto molto humorose ecco questi anni però sono gli anni guardate anche questo figlio del prodigo la camicetta sempre fatta con queste pennellate sono gli anni in cui come diceva Guercino sul fuoco bolliva la pignatta dei fagioli allora alcuni storici dell'arte intendevano dire ma forse voleva dire che erano gli anni i giovanili in cui ribolliva il suo intelletto di idee come la pignatta dei fagioli ma altri dicono ma forse voleva anche dire che erano gli anni in cui mangiava poco perché questo naturalismo non piaceva mica a tutti ecco perché invece una volta morto soprattutto Reni nel 42 Guercino virerà verso un tipo di pittura che lascia un po' queste esasperazioni naturalistiche e approda a un classicismo invece molto più pacato di marca reniana ecco qui c'erano ancora anni giovanili guardate che bello e com'è naturalistico questo Apollo e Marsia dalla raccolta d'arte della Biper quasi il volto di Apollo non si riesce a vedere tanto è in contrasto con il chiaroscuro appunto che viene presentato ecco nel 1621 gli viene dato l'incarico di decorare il soffitto del Casino Ludovisi a Roma perché si trovava a Roma e qui vediamo proprio come a Roma in questi anni sta nascendo la grande decorazione barocca le quadrature sono ad affresco di Agostino Tassi cioè vedete questi finti muri non sono veri vedete che qui si finge una rovina sono tutti eseguiti appunto da quello stupratore di Artemisia Gentileschi che è stato appunto il quadraturista Agostino Tassi e che vengono a concepire la volta secondo un criterio barocco mentre prima vi ricordate anche Annibale Carracci aveva concepito la galleria di Palazzo Farnese come una sorta di quadratura con quadri riportati ma comunque diciamo così un ambiente chiuso invece Guercino si immagina la scena vedete come se si sfondasse il soffitto con un'apertura già appunto di gusto barocco questo è uno delle figurazioni che si vedono appunto nel Casino Ludovisi che raffigura il giorno torniamo un attimo indietro vedete come è diversa dall'aurora di Quidoreni vi ricordate come l'aveva fatta Guidoreni così raffaellesca così classica questa invece com'è barocca anche nell'idea di tutte queste nubi in suo movimento di colore più scuro l'aurora non è che precede il giorno non viene rappresentata in questo caso come la fanciulla che precede il corteo di Apollo ma è lei stessa su un carro vedete e con le dita è come se spargesse dei fiori qui vediamo appunto la figura questa è la notte guardate che bella anche l'idea di rappresentare la notte come questa donna è una sorta di antro semidiroccato con suo figlio che sta dormendo c'è una civetta il tipico animale notturno e questi bagliori di luce come se fosse si fosse addormentata appunto seduta mentre leggeva con la mano portata al capo ecco queste invece sono le opere che già tendono ad andare verso quella figurazione dicevamo più classicistica siamo nel 1628 1630 e man mano che andiamo avanti questo è il bel dipinto di Modena quello che vi dicevo guardate com'era bello con questa madonna in trono e San Gregorio Taumaturgo appunto dalla bellissima veste questa macchia meteorologica dietro ma già questa struttura piramidale ormai già un po' classica ecco guardate com'è quando è stato ritrovato questa è la situazione del ritrovamento per fortuna i volti non sono rovinati però vedete quante cadute di colore ci sono state nell'arrotolare questa tela non vi faccio vedere come è stato restaurato perché mi fa rabbia e quindi non l'ho messo allora questo è un altro bellissimo dipinto del 1633 pensate era Sassuolo nel palazzo ducale di Sassuolo nell'appartamento Stucato un dipinto stupendo di Guercino perché è un dipinto che rende protagonista chi lo sta guardando e quando nessuno lo guarda manca di un personaggio perché vedete che c'è Venere che sta dicendo suo figlio colpisci chi sta guardando il quadro cioè noi e quindi quando nella sala non c'è nessuno nella sala dove è esposto non c'è nessuno il dipinto è come se fosse privo del quarto personaggio che in realtà completa la storia poi c'è Marte gli uomini come al solito non contano niente vedete sta semplicemente spostando una tenda sul retro questo dipinto fatto apposta per gli este guardate cosa c'è qui sulla faretra di Cupido l'aquila estense quindi era modo per omaggiare l'amico Francesco I quando muore il fratello di Guercino Francesco I il duca di Modena Reggio è molto gentile con Guercino gli dice caro se vuoi venirti a svagare un po' sassuolo vieni pure che ti diamo ospitalità e puoi stare quanto tempo vuoi quindi è molto gentile Guercino come sapete ha avuto un'altra particolarità ha tenuto un libro chiamato libro dei conti in cui da un certo momento in poi abbastanza precocemente ha iniziato a registrare tutto quello che faceva per chi lo faceva e quanto ricavava dalla vendita di quelle opere è una manna per gli storici dell'arte come Sir Dennis Maon che è stato il più grande studioso di Guercino perché vuol dire che tu hai la cronostoria quindi per la prima fase Amen non ce l'hai ma per quasi tutto il resto della sua produzione puoi andare a individuare quando è stato fatto perché è stato fatto quando è stato pagato con una cronostoria non ad annum ma a giorno praticamente quindi è veramente uno strumento importantissimo questo libro dei conti questa è la Sibilla Persica anche questo bellissimo quindi vedete che interpretazione diversa che dà Guercino con un fare più naturalistico rispetto al Domenichino pur essendo già nella sua seconda maniera di cui questo sposalizio mistico con Santa Caterina del 1648 della Galleria Estense è un esempio guardate com'è ormai Regnano quest'opera anche la macchia meteorologica ormai non c'è più è un cielo azzurrino normale ecco l'unica cosa che fa capire che non è un Reni e che è un Guercino è questa sorta di sfumato che caratterizza sempre dipinti di Guercino e che invece in Reni non trovavamo ecco a Roma arriva un pittore molto importante che è Lanfranco Giovanni Lanfranco Giovanni Lanfranco è considerato il padre delle cupole barocche Lanfranco infatti è quello che affresca in Santa Andrea della Valle la famosa chiesa di Tosca quella dove c'è Cavaradossi a dipingere sui ponteggi è questa chiesa appunto romana bellissima di Sant'Andrea della Valle e viene chiamato per affrescare questa cupola e realizza questa meraviglia che vediamo che darà il là a tutte le cupole barocche però noi emiliani appena la vediamo cosa diciamo no aspettate un attimo ma non è mica lui che ha inventato questo genere di cupole chi le ha inventate le aveva inventate Correggio a Parma era stato lui che con questa per esempio visione di San Giovanni a Pathmos nella Abbazia di San Giovanni Evangelista Parma aveva aperto la strada verso questo genere di idee cioè questo annullamento della cortina muraria perché vedete che non c'è più la cupola ma mentre prima invece i santi venivano incasellati magari dentro i costoloni o comunque c'era diciamo così una certa idea di chiudere le figure o per registri successivi eccetera qui invece diventa un tutt'uno dove l'architettura scompare è come se non ci fosse la calotta della cupola ed è come se invece quest'oculo che chiude la parte del transetto sopra fosse aperto e si potesse vedere questa visione tra l'altro con scorci di sotto in su quindi non con una visione ribaltata come se fosse un quadro che viene messo a tappare il buco dell'oculo no con quella visione di sotto in su per cui noi vedete vediamo le gambe in scorcio vediamo i protagonisti appunto di sotto in su come la tradizione nostra lombarda grazie a Mantegna per esempio l'oculo degli sposi oppure anche nel forlivese Melozzo da Forlì in Romagna Melozzo da Forlì che era stato un grande protagonista nel Cinquecento di questo tipo di effetti prospettici Correggio non era stato capito alla sua epoca quando aveva fatto questo affresco dell'assunzione nel Duomo di Parma qualcuno aveva detto cos'è quel guazzabuglio di rane che si vedono perché tutte queste gambe di sotto in su sembravano tutto dei ranocchi dei ranocchietti vestiti di sotto in su quindi c'era anche rimasto male correggio perché non era stato capito ma Lanfranco che invece veniva da Parma aveva negli occhi queste cupole quando arriva a Roma e va a fare la cupola di Santa Andrea della Valle questo è sempre Correggio da Parma guardate che bella perché poi molti pensano quando la vedono che l'assunta sia questa ma no non si farebbe mai vedere la Madonna con le gambe così al vento come se guardassimo sotto la gonna della Madonna ma no quello lì è un'altra geniale idea di Correggio vedete la Madonna è questa quindi è tutta posto quello che vediamo lì è come se fosse un angelo immaginatevi in questa centrifuga che ci aspira verso l'alto un angelo improvvisamente perde si stacca si perde un attimo si deve riprendere prima di tornare anche lui nel giro è divertentissimo perché ci dà un'idea molto vera anche della cosa ecco dopo aver visto una cosa così è chiaro che Lanfranco può concepire questo genere di cupola solo che stavolta siamo nel momento giusto vedete perché a volte le idee geniali se non arrivano nel momento giusto quando il mondo è pronto a riceverle tu puoi avere anche l'idea più geniale che niente rimane così faccio un esempio un po' più pragmatico che riguarda il mio territorio il distretto ceramico di Sassuolo alla fine degli anni 60 la ceramica Marazzi aveva pensato di rivolgersi a uno stilista Bicchi per chiedere di fare una linea di piastrelle firmate quindi fu fatta questa linea di piastrelle firmate da Bicchi che all'epoca era considerato un atelier importantissimo con tanto di campagna pubblicitaria dove si si vedeva questa modella con un abito che sembrava fatto di piastrelle perché era una seta stampata tipo piastrelle e le piastrelle identiche erano gli anni in cui si facevano vi ricordate quello orrende camere da letto dove era tutto uguale copriletto tende poltrone entrava in camere da letto e non distingueva gli arredi perché era tutto fatto o a fiore o uguale comunque beh fu un flop perché nessuno in quel momento voleva o sentiva la necessità di associare uno stilista a una piastrella o negli anni 80 c'è stato il boom e se non avevi il bagno con la piastrella di Versace di Valentino di Armani non eri niente quindi tutti a rifare i bagni perché tutti volevano le piastrelle firmare ma con tanto di firma pensate che cosa orrenda avere in bagno la firma di uno stilista adesso magari lo dico che c'è qualcuno che ha ancora un bagno anni 80 in casa ecco quindi idee geniali che però non sono arrivate nel momento giusto e invece vent'anni dopo quindici anni dopo sono state colte anche Correggio subito non viene capito Lanfranco invece porta questi germi a Roma e da lì tutte le cupole sono così cioè voi dopo andate in tutte le chiese di Roma successive e trovate queste cupole ma non solo andate anche a Fiorano nel santuario di Fiorano e trovate una cupola così figlia sempre di queste cupole appunto barocche ecco arriviamo all'ultimo argomento che trattiamo oggi che è comunque molto importante che è Rubens perché anche lui è all'origine del barocco sapete che adesso Mantua gli ha dedicato una mostra tra l'altro curata da Raffaella Morselli che è stata l'assistente della mia prof ai tempi in cui io frequentavo l'università di Bologna era l'assistente dell'anno Tanica Vina e mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo subito perché era bravissima era una giovane assistente ma veramente brava ha fatto infatti una carriera folgorante adesso ci seguiamo reciprocamente su Instagram ci sentiamo un po' così ogni tanto Raffaella ha fatto questo oltre alla Celeste Galleria vi ricordate quella bellissima mostra dedicata al collezionismo di Gonzaga adesso ha curato una bella mostra di Rubens a Palazzo Tech tra l'altro ho proposto a quelli della mia chat ed è andata a Ruba come il pane sei turni tutti pieni quindi non so più non ho più date per proporre altro magari vedremo in gennaio allora Rubens pittore fiammingo che però si trova in viaggio in Italia soggiorna in Laguna si innamora della pittura veneta e quindi innesta le idee del naturalismo di Roma di quegli anni su questo registro della pittura veneta fatta di colore fatta di pennello abbiamo detto e non di disegno creando quelle immagini così vedete frante fatte di colore che sono quelle che poi troveremo in Pietro da Cortona e vi ricordate che vi ho detto che le triadi sono importantissime per il rinascimento Leonardo, Raffaello e Michelangelo per il barocco Bernini, Boromini e Pietro da Cortona che è stato il grande protagonista siamo nel 1605 quindi 25 anni prima di quel 1630 che è la data diciamo così di riferimento come esplosione del barocco eppure questa pittura è già una pittura dai tratti prettamente barocchi dove si trova appunto torniamo un attimo indietro questa è la circoncisione di Gesù per la chiesa di Sant'Ambrogio ma soprattutto la commissione più importante che fa venire fuori proprio le capacità straordinarie di Rubens è la commissione dei dipinti da mettere nel presbiterio della chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma che è un sistema di dipinti vedete sono tre uno sull'altare maggiore che diventa una cornice con Velario che si può alzare e abbassare per un'immaginetta devozionale della Madonna di Santa Maria in Vallicella più i due dipinti laterali noi prendiamo in considerazione adesso il dipinto centrale quello sull'altare maggiore guardate com'è stato geniale Rubens cioè praticamente aveva un problema Rubens questa Madonna della Santa Maria in Vallicella ve la faccio vedere nell'immagine dopo è un quadratino piccolissimo come quasi tutte queste immagini devozionali perché di solito sono immagini prese da un muro che era da un'altra parte a cui la devozione ha dato importanza vedi la Madonna della Chiara a Reggio Emilia ad esempio che una volta che gli viene costruito invece una grande chiesa finisce che il dipintino è sempre sproporzionato rispetto a tutto il resto allora cosa ha fatto Rubens ha immaginato che questo dipintino fosse tenuto in mano portato da questa gloria angelica che vediamo e ci ha costruito attorno appunto tutta questa gloria di angeli in questo modo una pala d'altare che era un francobollo è diventata invece una pala d'altare come dire in linea armonica con quelle che sono le dimensioni invece della chiesa e attraverso un ingegnoso sistema che se c'è un sacerdote simpatico e ogni tanto potete vedere in funzione si può elettricamente adesso abbassare o alzare la tendina e in questo modo vedete viene fuori la Madonna quindi il velario è stato dipinto da Rubens e sotto però vi viene fuori la Madonna originale quindi un bellissimo dipinto bene cari allora io direi che stavolta con un po' di anticipo perché ho visto che comunque le sette e mezza sono è veramente un po' tardi un po' per tutti quindi visto che siamo partiti puntualissimi spaccando l'orologio stavolta e non abbiamo fatto pause intermedie mi maledirete lo so perché non vi faccio fare la pausa ma preferisco così no? cioè è meglio che guadagniamo qualche tempo e poi ecco una cosa importante se avete delle domande così riusciamo a parlarne perché altrimenti se dobbiamo sempre chiudere di corsa perché i bidelli devono chiudere la sala non riusciamo a parlare quindi se c'è qualcuno che deve andare adesso vada pure ma se c'è qualcuno che ha ancora qualche minuto per trattenersi e c'è qualche domanda io sono volentieri a disposizione c'è qualcosa che non è chiaro di cui abbiamo parlato oggi è chiaro tutto sono stato così bravo va bene grazie grazie cari allora ci diamo appuntamento alla settimana prossima spero di essere sempre così puntuale va bene grazie 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 sì